Si sono recati a Palermo per rifornirsi di stupefacenti da spacciare poi a Caltanissetta, ma al loro ritorno, ad attenderli, c'erano gli uomini della squadra mobile. Arrestati nel corso della notte, in flagranza di reato, di detenzione ai fini di spaccio, due coniugi nisseni, Andrea Bellomo, di 41 anni, e Marzia Rosina, 39 anni, trovati in possesso di 10,1 grammi di eroina e 7,54 grammi di mannitolo. Marito e moglie, tenuti sotto osservazione dei poliziotti, con appositi servizi di appostamento sulla A19, sono stati fermati a bordo della loro Alfa Romeo, intorno a lune e un quarto di notte, sotto la loro abitazione del capoluogo, non appena scesi dall'autovettura. Sottoposti a perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nel reggiseno della donna un involucro di eroina del peso di 10,1 grammi, mentre nell'abitazione i poliziotti hanno trovato, nel secondo cassetto di un mobile della cucina, due bilancini di precisione, 7,45 grammi di mannitolo, un cutter con la mannerita, un pezzo di cellofan bianco tagliuzzato, utilizzato probabilmente per confezionare le dosi di disubefagenti da spacciare, materiale tutto sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, Andrea Bellomo è stato condotto al malaspina, mentre la moglie, Marzia Rosina, gli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.